Dopo quattro mesi di degenza, cento giorni in terapia intensiva e decine tra interventi chirurgici e procedure salvavita, è tornato a casa un ragazzo gravemente ferito a seguito di un incidente di moto, grazie ad un grande lavoro di squadra tra tanti professionisti e reparti diversi dell'azienda ospedaliero universitaria sinese. In particolare il giovane paziente è arrivato in pronto soccorso con un problema molto importante agli organi addominali. Il giovane paziente è stato stabilizzato dai professionisti dell'emergenza ed è stato preso subito in carico dall'equip della UOC Chirurgia Generale ed Epatobiliopancreatica diretta dal dottor Marco Farsi. Successivamente è sopraggiunta un'embolia polmonare massiva in fase acuta post-trauma che è stata magistralmente risolta dal professor Eugenio Neri, responsabile della UOSA Chirurgia dei Grossi Vasi. Ascoltiamo il dottor Marco Farsi, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'azienda ospedaliero universitaria sinese e il professor Eugenio Neri. Si è trattato di un caso molto delicato, un grave incidente stradale in un paziente molto giovane che ha reso indispensabile effettuare una serie di interventi chirurgici anche di chirurgia molto complessa. È stato ricoverato a lungo in terapia intensiva e molte sono le figure professionali che si sono avvicendate per riuscire a salvare la vita, perché in effetti è stato così, a questo giovane ragazzo. Ha testimonianza che il lavoro di equipe, il lavoro in team è fondamentale per poter raggiungere dei risultati che potevano essere anche insperati. A un certo punto di questo lungo percorso abbiamo anche perso un po' di ottimismo e pensavamo di non farcela, però non ci siamo mai rassegnati. Abbiamo lavorato bene insieme, abbiamo fatto molti interventi di chirurgia addominale, di cardiochirurgia, di chirurgia plastica, di chirurgia ortopedica, ma siamo riusciti a salvare la vita a questo giovane ragazzo. Indubbiamente queste sono soddisfazioni professionali che non sono soddisfazioni individuali, ma ci danno la misura che si lavora bene. Non si lavora da soli all'azienda ospedaliera senese, cioè che c'è una rete di professionisti che sono in grado di comunicare, di lavorare insieme per un obiettivo. Il caso del ragazzo è particolarmente drammatico e ce lo porteremo sempre dietro perché fondamentalmente sono quelle condizioni che non sono mai scontate e ci tengono sempre un po' col fiato sospeso. Il professor Farsi che ha preso in carico il malato nella fase acuta ha indicato perfettamente la complessità del caso clinico e credo che abbia funzionato soprattutto quegli automatismi che servono per fare qualità. I risultati non sono scontati, ma i mezzi devono essere indiscutibili e credo che questo lo abbiamo dimostrato. È la maturità del nostro sistema di assistenza e soprattutto che Siena è in grado di dispiegare a favore di un'area molto ampia e i cittadini che vivono in un'area molto ampia la qualità dei suoi servizi. Credo che questo contraddistingua i grandi ospedali. La Banca MPS ha divulgato oggi i risultati dell'anno 2019. L'anno si chiude con una perdita di 1,033 miliardi di euro per l'istituto senese su cui pesa la revisione del valore di TI, attività e passività fiscale differite per 1,2 miliardi a fronte di un utile di 279 milioni realizzato lo scorso anno. Il risultato operativo netto si attesta a 323 milioni in aumento del 3,3% rispetto al 2018 e l'utilante imposto è pari a 53 milioni, il miglioramento rispetto alla perdita di 109 milioni registrata l'anno precedente. Nel 2019 però MPS non ha raggiunto gli obiettivi reddituali previsti dal piano di ristrutturazione concordato con l'Unione Europea. La Banca spiega che nei risultati, aggiungendo che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi reddituali si procede ad una riduzione di costi operativi di 100 milioni di euro rispetto a quelli previsti nel piano. La riduzione deve realizzarsi entro il 2021, questi dati nella nota diffusa nella banca. Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2019 il common equity tier 1 ratio si è attestato al 14,7% rispetto al 13,7% del 2018 e il total capital ratio è risultato pari al 16,7% che si confronta con il valore del 15,2% registrato a fine dicembre 2018. Siamo partiti da qui, cioè siamo partiti rimotivando la nostra azienda e il rapporto con il territorio e la fiducia significa il rapporto anche con le persone. Quindi noi, oltre a quello che faremo, ma lo faremo, guardate, con una chiave di lettura profondamente diversa. Le opere che verranno fuori saranno improntate alle politiche green e alla sostenibilità. Quindi c'è una nuova decodificazione di quello che è poi l'edificazione all'interno dei territori. Noi crediamo di farlo anche assumendoci quella fiducia con impegno e dedizione. Lo sviluppo del protocollo sull'economia circolare è restituire al territorio quello che qui preleviamo con le risorse e con le tariffe. Ricordo che la tariffa rimarrà congelata fino al 2031 avendo anche un piccolo decremento. Lo faremo con quei 343 milioni che noi riverseremo all'interno del territorio servito. Questa nuova chiave di lettura ci mette in linea con quelle che sono le nuove politiche europee nazionali sul riuso e sull'uso corretto della risorsa, la materia prima e seconda. Quindi le nostre azioni sostanzialmente andranno a costruire un territorio ricollegandolo al tempo passato. Perché quest'anno noi vogliamo raccontare e anche tutti i nostri canali manderemo un video fatto dai nostri collaboratori bellissimo che raccontano il loro territorio e raccontano che cosa vogliono fare all'interno del territorio servito e quindi questo significa che noi andremo a intervistare tutta una serie di persone anziane che ci racconteranno qual era il loro rapporto con l'acqua e quello che quest'azienda ha fatto magari in mezzo secolo trasformando quello che erano degli acquitrigni dove esisteva una malattia che si chiamava malaria e che cos'è il benessere e il servizio oggi. Noi vogliamo restituire ai nostri utenti quello che è un rapporto e quello che è una trasformazione sul quale crediamo di aver dato un piccolo contributo. Inaugurata ufficialmente la decima edizione di Buy Wine Toscana alla fortezza da basso di Firenze oltre 260 le aziende vitivinicole toscane presenti all'evento a cui partecipano 220 compratori da 50 paesi unica assenza a quella dei 25 buyer attesi dalla Cina fermati dalle misure internazionali adottate per il caso coronavirus che, secondo l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi non frenano comunque l'interesse per i vini toscani e Buy Wine ne è la conferma. Qua si fanno i contratti si fanno gli affari si vendono bottiglie si vende un pezzo del nostro territorio della Toscana della nostra toscanità vendiamo le nostre eccellenze il nostro territorio e quindi tutto quello che sappiamo fare è meglio. La manifestazione organizzata dalla Regione Toscana insieme alla Camera di Commercio di Firenze è stata pensata per venire incontro alle esigenze di produttori e operatori creando un modello innovativo. Un modello fatto dal B2B un modello fatto da incontri diretti tra le aziende produttrici e poi i buyer che poi dopo alla fine sono quelli che danno sempre l'interesse o il successo economico a un'iniziativa e io credo che su questo abbiamo fatto centro. Qui le aziende possono con prezzo e contenuto partecipare e avere la possibilità di avere delle effettive certezze perché hanno avuto la possibilità di condoncersi precedentemente. Buy Wine si estenderà anche nei giorni successivi all'evento alla Fortezza d'Abbasso con le anteprime di Toscana e con le visite alle aziende vetivinicole del territorio regionale.